Shannon Doherty è scomparsa purtroppo all'età di 53 anni. L'attrice, famosa per il ruolo di Brenda in Beverly Hills 9210, combatteva da anni contro il cancro. La notizia della sua morte è stata diffusa poco fa dalla rivista People e confermata dalla sua portavoce Leslie Sloan. Con grande tristezza confermo la scomparsa di Shannon Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua lunga battaglia contro il cancro. Ha dichiarato la portavoce chiedendo poi il massimo riservo e privacy per la famiglia. Ha aggiunto, Shannon era una devota figlia, sorella, zia e amica circondata dai suoi cari e dal suo cane Bowie. La famiglia chiede di poter piangere in pace. Negli ultimi anni Shannon aveva condiviso pubblicamente il suo percorso di malattia diagnosticata con un cancro al seno nel 2015. L'attrice aveva affrontato la malattia con coraggio, raccontando apertamente il decorso e gli effetti sul suo corpo e sul suo umore. La sua battaglia contro il cancro è stata seguita da molti, ammirando la sua forza e determinazione. La sua perdita lascia un vuoto profondo nel cuore di amici, familiari e fan in tutto il mondo che continueranno a ricordarla per la sua resilienza e il suo spirito indomabile. Grazie.